In nomine Patrice, figli e spirito santi, Amen, Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tuoi ginocchia materne per abbandonarmi fra le due braccia, per chiederti cosa ispiri più ardenti che tu mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del Povere Divino e stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno tuo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazie a plena Dominus Tecum, benedicta tu i mulieribus, benedictus frutus ventris tu Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 32, 22 ottobre 1933. Gesù trova il suo cielo nella creatura, la sua mamma celeste tutti nel tutto ed il tutto in tutti. La Divina Volontà si fa rivelatrice e cede il suo essere divino alla creatura. Mi sentivo piccola piccola, tanto da non saper muovere un passo ed avendo fatto la Santa Comunione sentivo il bisogno come piccina di rifugiarmi nelle braccia di Gesù per dirgli ti amo, ti amo assai, non sapendogli dire altro perché troppo ignorantella. Ma il mio dolce Gesù aspettava che gli dicessi altro e io ho soggiunto Gesù ti amo insieme con l'amore della nostra mamma celeste. E Gesù mi ha detto come mi è dolce, refrigerante sentirmi amare insieme con l'amore della figlia e della mamma nostra. Sento le sue tenerezze materne, le sue foghe d'amore, i suoi casti a bracci, i suoi baci ardenti che versandosi nella figlia, mamma e figlia mi amano, mi baciano, mi stringono fra le loro braccia con un solo amplesso. Trovare la figlia insieme con la mia mamma celeste, che mi vuole amare e mi ama come mi ama la mia mamma sono le mie più care delizie, i miei sfoghi d'amore e trovo il più gradito contraccambio ai tanti eccessi del mio amore ma dimmi, insieme con chi altro mi vuoi amare? Ed ha fatto silenzio, aspettando che io gli dicessi insieme con chi altro lo vorrei amare ed io, quasi un po' imbarazzata, ho soggiunto mio divino Gesù, voglio amarti insieme col Padre e con lo Spirito Santo ma pareva che non era contento ancora e Dio voglio amarti insieme con tutti gli angeli e santi e lui e con chi altro? Con tutti i viatori e fino all'ultima creatura che esisterà sulla terra voglio portarti tutti e tutto, fino al cielo, il sole, il vento, il mare per amarti insieme con tutti e Gesù tutto amore che pareva che non poteva contenere le fiamme, ha soggiunto figlia mia, ecco il mio cielo nella creatura la Trinità Sacro Santa che cede il suo amore per amarmi insieme con esse gli angeli e santi che fanno a gara cedere il loro amore per amarmi insieme con lei questo è il grande atto portare tutti nel tutto che è Dio ed il tutto in tutti la tua piccolezza e i tuoi modi infantili nella mia divina volontà abbracciano tutto e tutti vuoi darmi tutto fino alla stessa Trinità adorabile e siccome sei piccola nessuno vuole negarti nulla anzi si uniscono con te e damano insieme con la piccola piccina e col portarmi tutti nel tutto e col amarmi diffondi il tutto in tutti essendo il mio amore vincolo di unione e di inseparabilità io trovo tutto nell'anima il mio paradiso le mie opere tutti e posso dire nulla mi manca né il cielo né la mia mamma celeste né il corteggio degli angeli e dei santi tutti sono come tutti mi amano questi sono stratagemmi di industria e amorose di chi mi ama che chiama tutti chiede amore da tutti per amarmi e farmi amare da tutti dopo ciò continuavo a pensare al volere divino ed il mio dolce Gesù ha soggiunto figlia mia benedetta chi possiede la mia volontà come vita sente in sé il moto divino Dio si muove nel cielo ed essa sente il suo moto il nostro moto è opera, è passo, è parola, è tutto e siccome la nostra volontà è una con quella che possiede la creatura si sente scorrere dentro di sé lo stesso modo con cui Dio si muove e quindi sente dentro di sé l'opera, il passo, la parola divina la mia stessa volontà, ciò che fai noi stessi, fai nella creatura in modo che la creatura sente dentro di sé non solo la vita ma la nobiltà è il modo di colui che l'ha creata sicché non sente il bisogno di chiederlo perché si sente posseditrice la nostra volontà l'occupa tanto che le dà il suo amore per farsi amare la sua parola per farla parlare il suo moto per farla muovere ed operare ed o come è facile che sappia ciò che vuole da lei non ci sono segreti né cortine per chi vive nella nostra volontà ma tutto è svelato possiamo dire che non ci possiamo nascondere da lei perché la nostra stessa volontà già ci svela chi può nascondersi da sé stessa da non sapere i suoi segreti e ciò che vuole fare nessuno dagli altri si può nascondere ma da sé stessa le sarà impossibile tale è la nostra volontà si fa rivelatrice e mette a giorno la creatura di ciò che fa di ciò che vuole fare e le fa le grandi sorprese del nostro essere divino ma chi può dirti dove può giungere la creatura e che cosa può fare col possedere come vita la nostra volontà succede la vera trasformazione e consumazione della creatura in Dio e Dio prende la parte attiva e dice tutto è mio e tutto faccio in questa creatura è il vero sposalizio divino in cui Dio cede il suo essere divino alla sua amata creatura invece a chi vive di volontà umana succede come a chi scendendo dalla nobiltà della sua famiglia prende per sposo una villana rozza maleducata questo a poco a poco perderà i suoi modi nobili ed educati ed acquisterà modi villaneschi e rozzi da non riconoscerci più che distanza tra chi vive di volontà divina e chi vive di volontà umana i primi formano il regno celeste sulla terra decidi di bontà di pace e di grazia si possono chiamare la parte nobile i secondi formano il regno delle rivoluzioni delle discordie, dei vizi che non hanno pace e non sanno dare pace anche oggi amici cari qui ci sono dei meravigliosi spunti di riflessione oggi il signore tocca anche un tema a cui sono particolarmente sensibile i rozzi e i villani e quindi i cafoni ecco quei modi, quegli stili che oggi praticamente universalmente diffusi perché a mio avviso uno dei segni del grande distacco da Dio che c'è stato di questo nostro attuale orrido mondo orrido è quasi un complimento è proprio questa diffusione endemica della maleducazione del cattivo gusto della rozzezza della cafonaggine della villania proprio tutto ciò che consiste tutto ciò che concorre scusate a rendere la vita bella la gentilezza dei modi la nobiltà dei tratti la signorilità degli stili cioè ciò che come dire rappresenta la quintessenza della cosiddetta nobiltà però intesa in senso positivo quindi nelle qualità nelle bellezze che esprime non certo in maniera come dire classista o tale da creare barriere e divisioni sociali no no io spero che quando pensiamo a Gesù e Maria ce li immaginiamo tutti così Gesù non era mica un rozzo era mica un villano era mica un cafone tantomeno una madonna e questo traspariva in tutto l'essere della loro persona no e e questo è bello quando noi vediamo una persona che che è così ci trasmette cose belle io a volte guardo la proprio la il basso veramente il basso in cui sono scesi non di rado stili e modi ecclesiastici sotto tutti i punti di vista linguaggio modi familiarità in debite perdita del senso della sacralità della propria persona da parte di molti ministri abiti inqualificabili forgiati sullo stile di vita laicale secolare quando un ministro un ecclesiastico è devi essere un uomo di Dio allora vivere nella divina volontà questo sia ben chiaro e portare la divina volontà vuol dire anche un raffinarsi raffinarsi i maleducati non vivono nella divina volontà perdonatemi i grezzi non i grezzi perché i poverini sono nati in un contesto dove non sono stati cioè quindi c'è quel grezzo simpatico c'è quel grezzo carino c'è quella persona che tu capisci che pur sforzandosi di essere educata nei modi però il poverino dipende dal contesto in cui è nato e ogni tanto fa delle cose un po' così ma non è questo quel rozzo che è in viso a Dio il rozzo è il rozzo che vuole essere tale che quasi si compiace in certi in certi in certi modi così come io sarò fissato qualcuno mi dice ma io fino a quando non vedo un certo decoro esteriore in una persona non sono affatto convinto di tante cose se posso fare qualche esempio ma lo faccio così oggi facciamo un po' di provocazioni un sacerdote che non comincia a riscoprire la bellezza anche e la doverosa dignità che deve dare al suo esteriore come gesto di amore suo nei confronti del Signore suo nei confronti di se stesso perché tu porti sacerdote una dignità che non è la tua e tu non la puoi ammortificare e la porti poi dinanzi al prossimo perché il tuo modo di porti e di essere autorizza il prossimo a trattarti in un certo modo ora che ti capiti dinanzi a un cafone che nonostante i tuoi sforzi i tuoi modi quindi il fatto che tu in nessun modo autorizzi comportamenti indebiti verso la tua persona si riprende lo stesso questo è tutto quanto a carico di quella persona ma se tu col tuo modo di fare è come quasi che lo provocassi o che lo ingenerassi un certo modo di fare di che allora le donne che vanno vestite in maniera scellerata ha voglia a dire poi a lamentarsi di tante questioni sono una provocazione continua e stanno dicendo alle persone io sono un corpo da godere non sono una persona guarda questo è quello che ti posso dare e ha voglia a dire che loro non hanno nessuna intenzione non fa niente che non c'è nessuna intenzione perché ci sono dei fatti oggettivi che prescindono dalle intenzioni ci stanno delle cose a volte un pochino grossolane a volte io ogni tanto ho visto un giro oppure qualcuno mi chiede vedete proprio i processi di di maturazione no ho visto qualche signorina quindi qualche figlia di dio in chiesa col capo coperto e addosso i pantaloni a questo tempo col capo coperto e addosso i pantaloni non so se conoscete gli abiti credicali non sarebbe come se un prete porta il clergyman e si mette lo zucchetto oppure la berretta oppure un vescovo no immaginate un vescovo che sta vestito con meglio non dirlo col clergyman e si mette lo zucchetto viola ma è ridicolo perché lo zucchetto viola sta bene sopra la veste talare la berretta o un prete lo porta sopra la veste talare perché tu metti una cosa divina una cosa del cielo la berretta è un un elemento abbastanza sacro anche se pochi sanno che significa così come lo zucchetto non lo puoi mettere sopra un abito secolare perché è un cazzotto dentro un occhio oltre ad essere una contraddizione in termini è proprio una cosa amici che io non voglio fare il fissato però queste cose qui sono importanti io non voglio c'è qualche mio confratello sacerdote molto più santo di me che quando sente dice io sono stufo di sentire certe cose mi viene a essere stufo anche a me in giro ci sono sapete tanti veggenti veri o presunti a destra o a sinistra adesso stanno uscendo tante questioni di vario genere ma a me sinceramente tante questioni di vario genere non è che mi hanno molto stupito perché se io ti vedo una persona che sostiene di avere contatti col soprannaturale una femminuccia perdonatemi eh truccata sbracciata con dei modi abbastanza grezzi e grossolani in pantaloni e addirittura perché porta qualcuno pure fuma ma io non ci credo neanche se lo vedo che tu stai in contatto col soprannaturale non serve altro sarò esagerato sarò tutto quello che vuole ma forse ma non esiste proprio non ci credo io non ci credo poi per carità se è vero nostro signore mi perdonerà mi farò fare un sacco di purgatori mi punirà mi castigare io non ci credo allora i modi se tu stai a contatto cioè se amici cari se la volontà divina abita in noi ma ti pare che ti può lasciare in pace se tu c'hai dei modi così grossolani se tu di questo ancora non hai preso coscienza che significa? significa che la vita della divina volontà è sempre lo stesso cioè tutti i giorni ti dico sempre le stesse cose non è che ti sto crocifiggendo diciamo il brutto disgraziato peccatore te ne va all'inferno no significa semplicemente che la vita nella divina volontà non è ancora interformata allora mi raccomando non ti illudere che non cominciare a dire ah io sto nella divina volontà in qualche altra meditazione ho raccontato che mi sono capitate nella mia vita esperienze contatti con persone ah io vivo in volontà padre dico tu vivi nella dico beato a te beato a te io no io ci provo cioè come fai a affermare con certezza una cosa di questo genere ah no no perché io faccio gli atti faccio la fusione faccio questo faccio l'altro io vivo in una di una volontà eh cioè non si deve mica permettere di dubitare una cosa di questo genere no perché te non dubito di niente insomma prima di affermare una cosa di questo genere parte il fatto che non possiamo noi affermarla di noi stessi lascia che siano altre da affermarla di te no o addirittura domine Dio noi possiamo come dire fare delle 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 valutazioni molto come dire molto molto sommarie molto imperfette anche perché non ci conosciamo bene non sappiamo vedere dentro noi stessi con tutta quanta questa chiarezza però soggetti che mi parlavano in questo modo ripeto qualcuno con rossetti rossi e smalti all'ultima moda che a me mi sembrano certe streghe con le unghie io quando vedo le unghie lunghe rosse io ho un trauma mi porto dietro un trauma da bambino d'accordo faccio un po' di ironia ma era un incubo di corrente da bambino quando vi canto l'essi la statua di biancaneve che c'era st'immagino l'essi su un libro con sta strega tutta vestita di nero con ste unghie lunghe rosse sta mela in mano io me la sognavo la notte c'è gente che si va a fare la comunione ma anche ministresse straordinarie mi dicono mi dicono perché dalle parti mie non si trovano per grazia di Dio che vanno a dare la comunione con unghie lunghe e smalto rosso ma io dico io dico quando vedo certe cose io mi chiedo perché sarò stupido sarò ma che cosa ci sta dentro la testa e dentro il cuore di questa persona ma che pensa non la voglio giudicare non voglio giudicare le intenzioni perché la giudica soltanto il nostro signore ma questa non si rende conto di quello che sta facendo non ci arriva è la cosa che fa preoccupare che non ci arriva non quello che fa che non ci arriva quindi com'è il grado di formazione di quella coscienza e se tu ci parli quella si pensa di essere magari santa perché sta a fare un grande ministro ecclesiale aiuta il parroco è ministra straordinaria questa è l'ultima parte della meditazione di oggi ma non non indifferente cioè c'è un'opera di rieducazione veramente globale universale capillare e deve partire da noi chiaro? deve partire dall'esempio non ce ne deve importare niente se qualcuno chiacchiera o se io ho detto tante volte un prete che oggi sceglie di vestirsi da prete ve lo dico io e perdonatemi che ne so qualcosa vuol dire rinunciare alla carriera ecclesiastica se va bene se si ferma qui già gli è nata bene quindi niente incarichi indiocesi niente direttore dell'ufficio niente cocco del vescovo niente sei capace tu di fare questo però di fare una cosa che certamente è gradita Gesù e la Madonna su questo è molto facile Gesù e la Madonna hanno parlato tantissime volte di questa cosa o no o ami come diceva Gesù nel Vangelo di San Giovanni la gloria di Dio è più di quella degli uomini scusate no la gloria degli uomini è più di quella di Dio il contrario Vangelo di Giovanni se è così dopo però non mi venire a dire tu non devi parlarmi di divina volontà però se è così perché dopo uno deve essere coerente figlioli miei cari difficile che ne parli ma tu non solo non devi parlare di divina volontà tu neanche la fai la divina volontà se ami la gloria degli uomini più di quella che viene da Dio solo non so che non ci vivi ma nemmeno la fai ecco quindi questi aspetti non sono aspetti esteriori perché noi comunichiamo attraverso il nostro esteriore comunichiamo a Dio noi parliamo a Dio attraverso il nostro esteriore ma scusate amici miei cari avete mai visto qualcuno che si mette lo smoking per andare in spiaggia ditemi o che si mette in ciabatte e in fradito per andare alla prima della scala perché che problema ci sarebbe ancora non ci siamo arrivati o meglio ci siamo arrivati perché st'estate si sono visti i preti che celebravano sul materassino dentro l'acqua cosa c'è dietro una cosa di quel genere sapete cosa ve lo dico io cosa c'è un discorso di questo genere allora io sono prete non per l'abito che porto cioè i parametri su tante cose esteriori perché io sono prete e questo è un discorso in sé giusto perché il giorno in cui sono stato ordinato il vescovo mi ha imposto le mani mi ha unto sulla testa mi ha unto le mani col crismo io sono prete quindi io posso compiere gli atti sacerdotali dovunque comunque a prescindere e questo è vero ma questo che significa quindi cioè dentro una testa del genere per nessuno che ci sia diciamo che problema c'è tanto per celebra la messa mica ci vogliono i paramenti sacri basta che io consacro il che non è falso come come ragionamento ma tu non puoi farlo in quel modo capite? cioè è vero che la sostanza è sempre la cosa principale ma gli accidenti non sono irrilevanti diceva ma io sono una persona solare nobile sono una persona raffinata quindi se mi vado a mettere i jeans strappati che mi importa io comunque sono una persona educata e se mi porto i jeans strappati non è che divento male educato perché ho jeans strappati ma in ogni caso non è certamente un buon modo di esprimere la tua educazione vestire in quel modo specialmente in certi contesti poi allora andiamo all'inizio con dinanzi a tale grossolanità estrema qui Gesù oggi penso che l'abbiamo capito e questo è un punto basilare un altro punto basilare secondo me sono questi due punti basilari oggi uno non si venga a dire a una persona che è ancora grezza maleducata che non ha acquisito certi stili che vive nella divina volontà due la comprensione profonda di che cosa significa compiere gli atti fare i giri nella divina volontà significa portare nel nostro ti amo che deve moltiplicarsi in continuazione a Gesù tutto l'universo l'amore stesso della Santissima Trinità questo è un esercizio che più si fa e più esplosioni di luce di gioia di santità di benessere si scatenano in senso buono dentro e fuori di noi lui si dice fatta la comunione se vuoi dire soltanto Gesù ti amo Gesù ti amo e cominci ad aggiungere Gesù ti amo con l'amore della nostra mamma celeste vedete la consagrazione totus tos qui Gesù sembra che sta facendo una sorta di primo step comincia ad amare Gesù con Maria e in Maria già questa è tanta roba ma poi il secondo step cosa gli dice voglio amarti insieme col Padre e con lo Spirito Santo non solo con tutti gli angeli e i santi con i viatori fino all'ultima credito che esisterà con il cielo con il sole con il vento con il mare con tutti e qui figlioli miei cari largo all'inventiva dell'amore e alla fantasia per cui poi quando noi stiamo a tu per tu con il nostro Signore queste operazioni possono assumere sfumature dettagli potenzialmente infiniti e sarebbe una cosa molto interessante se i figli della divina volontà facessero un po' una sorta di santa gara a chi è più bravo a sorprendere l'altissimo dice ma oggi ti ho fatto sto giro ti ho portato sta cosa ecco quindi capite è una cosa veramente bella e straordinaria quindi amici miei il clou il massimo del girare nella divina volontà lo realizziamo quando impariamo a portare tutto quindi ma questo quando quando parte questa cosa quando il primo comandamento che è la quinta essenza della vita nella divina volontà comincia ad essere vissuto cioè io comincio ad amare Dio con tutto il cuore con tutta l'animo con tutte le forze però che cosa succede? succede che per quanto io amo Dio con tutto il cuore con tutta l'animo con tutte le forze questo è niente in confronto a quello che Dio si merita in confronto a quello che Dio è anche perché poi il nostro amore come sappiamo è sempre enormemente limitato piccolo imperfetto no? e allora uno sente il bisogno di e si inventa qualcosa e Gesù qui ci ha dato praticamente le dritte per inventarsi qualcosa che è appunto compiere gli atti perché nella divina volontà io raggiungo cioè qual è il primo mi si perdoni ambito proprio dove la divina volontà si trova è tre persone divine è chiaro no? la volontà divina è la volontà del padre del figlio e dello spirito santo quindi se io faccio un atto nella divina volontà come dire il primo amore che ritorna a Dio è il suo perché lo amo con lo stesso suo amore al secondo posto chi gli torna subito l'amore della Madonna che è vissuta solo di divina volontà al terzo posto l'amore dei santi del cielo in cielo c'è scritto fiat volontas tua la vita del cielo fiat volontas tua sicur di in cielo e di in terra è il fiat poi le anime del purgatorio e poi tutte le creature e poi tutti quanti i suoi amati uomini anche quelli che stanno ancora sulla terra anche quelli che faranno una brutta fine perché ogni anima creata da Dio l'anima da Dio è uscita fuori bellissima che abbiamo che c'è il pericolo purtroppo di fare una brutta fine non dipende dal fatto che l'anima non è uscita bellissima o che non è in sé bellissima ma come sappiamo da chi dipende 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 domande dalla volontà umana che può distruggere tutto tu mi porti attenzione tu porti il tutto nei tuoi atti ma porti anche e diffondi tutto in tutti facendo così questi sono attenzione stratagemmi di industria amorosi di chi mi ama però cioè capiamo anche per questo che dico sempre la vita nella divina volontà presuppone una scelta di santità perché è scelta di amore verso il Signore se tu hai ancora il rapporto con il nostro Signore che non te lo fili proprio nel senso che mi raccomando a me è soltanto la domenica che è pure troppo non mi sta sgonfiando il favore che c'è basta il rosario che forse uno durante il mese di maggio mica posso dire tutto il giorno il rosario cioè per carità se uno campa così non è detto che vada all'inferno perché per scampare all'inferno bisogna fare lo stretto indispensabile per quanto riguarda la legge di Dio ma non può entrare in questo mondo no non può perché questo è un mondo dove come dire le ansie di amore della creatura che accoglie e ricambia l'amore divino impazziscono e vanno a cercare un qualche cosa che adegui l'infinito amore di cui si sente continuamente ricolmata per ricambiarlo tutto qui e allora sente scorrere dentro le sere lo stesso modo con cui Dio si muove quando si vive così e non solo la vita ma la nobiltà e il modo di colui che l'ha creata così chiudiamo da dove siamo partiti la nobiltà e il modo di colui che l'ha creata e attenzione diventa facile sapere ciò che vuole da lei il discernimento non sempre facilissimo ma relativamente facile soprattutto e qui sono contento perché le persone che stanno un pochino seguendo quello che cerco valbettando di trasmettere vedo che quando mi parlano quando mi scrivono cominciano a entrare perché se tu impari ad ascoltare bene la voce della tua coscienza dove Dio ti parla diventa molto meno difficile a comprendere quello che Dio vuole sia nelle piccole scelte che nelle grandi scelte io per grazie a Dio cerco sempre di sollecitare le persone a farci arrivare da sole alle cose non dargli la risposta a pappa pronta perché non ci sta sempre colui con cui ti puoi consigliare per avere risposta a pappa pronta ma se io ti faccio vedere che la risposta ce l'hai già dentro di te perché tutti ce l'hanno già dentro di sé se imparano ad ascoltare la coscienza poi sarà più facile e potrai viverla questa cosa vedere come è facile sapere ciò che Dio vuole da te a condizione che tu con tutto il cuore lo desideri conoscere ma vi sembra normale che una persona che desideri con tutto il cuore conoscere ciò che Dio vuole perché lo vuole amare e servire Dio non glielo dice ma adesso per carità è chiaro che Dio può fare quello che vuole non deve rendere conto a noi di quello che fa viva Dio ci mancherebbe solo no? però non è verosimile no? allora attenzione i primi vivono di volontà divina formano il regno celeste sulla terra arricchiti di bontà di pace di grazie sono la parte nobile quelli che vivono di volontà umana formano il regno della rivoluzione delle discordie dei vizi non hanno pace eh e non sanno dare pace c'è gente che campa da dannata eh e oltre che sta dannata per se stessa belina in continuazione pure la vita di chi gli sta intorno eh sono vite molto tristi ma sono vite anche molto eh come dire velenose proprio devastanti per le quali preghiamo e non cessiamo di farlo perché aprono gli occhi della mente e del cuore 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 che si un nuovo grande grazie Signore Gesù per tutto quello che anche oggi ci trasmetti e ci dici come sempre una sopplica che rimanga e entri nel nostro cuore così fonda con le fibre della nostra anima e diventi vita dopo questa odierna, nuova e ulteriore full immersion possiamo ulteriormente crescere nella vita e nella divina volontà nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen, ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria 파 servizis Undive a